Aggiungo un top player al Napoli finché non vince la Champions League Allora ragazzi, eccoci qua con un nuovissimo video L'abbiamo già fatto per la Juventus ma oggi tocca al Napoli Qua alla mia destra o sinistra, non lo so, vedete una ruota E cosa c'è in questa ruota? Ci sono i 20 giocatori più forti di FC24 Andremo a girare ogni volta la ruota e andremo ad aggiungere uno di questi top player in maniera casuale al Napoli Dopodiché andremo a simulare tutta una Champions League Se riuscirà a vincerla il video sarà terminato Se no, riandremo a girare la ruota e andremo ad aggiungere un secondo top player al Napoli Via dicendo così finché non riuscirà a vincerla a Champions Abbiamo 20 top player e quindi abbiamo 20 tentativi Ce la farà il nostro Napoli? Direi che ora di iniziare a girare la prima ruota raga e vedere qual è il primo top player che il nostro Napoli si becca E andiamo ad aggiungerlo Ma prima mi raccomando un commento qua sotto scrivendomi secondo voi Quale sarà il giocatore decisivo per la Champions del Napoli Quindi quale di questi 20 quando andremo ad aggiungerli riuscirà a regalare la Champions League al Napoli Commentate qua sotto e poi ragazzi mi raccomando un'iscrizione al canale Io sono pronto ad iniziare 3, 2, 1, gira la ruota E il primo giro di ruota regala al Napoli Teo Hernandez subito Quello che ho aggiunto rispetto a Ozyman Perché l'altra volta c'era Ozyman ma Ozyman è già nel Napoli E quindi subito il giocatore ha aggiunto la ruota Teo Hernandez al Napoli Occhio subito una grande aggiunta Allora questa è la formazione del Napoli da cui partiremo ogni volta E dobbiamo andare ad aggiungere i giocatori Quindi in questo caso andiamo ad aggiungere Teo Hernandez Fatemi vedere se si può modificare in qualche modo la formazione No mi sa che è la migliore possibile Ok vado a mettere Teo e andiamo a simulare la prima Champions Incrociando le dita Ok Teo Hernandez ha aggiunto Ho cambiato anche modulo perché mi sono reso conto che non era giusto quello con elmas titolare Questo è il Napoli migliore di tutti E allora Teo ha aggiunto prima Champions Vamo Vi faccio vedere come faccio a simulare la Champions ogni volta raga Se volete farlo anche voi Dovete fare una nuova carriera Usare le rose attuali ovviamente Non mettere quelle recenti perché sennò vi toglie tutti gli aggiornamenti Dopodiché selezionate il Napoli E quando siete in questa schermata Dovete semplicemente disattivare le offerte di lavoro internazionali Poi iniziate Così inizia una nuova carriera E simulate fino a fine anno In questo caso essendo il primo tentativo Raga voglio vedere con voi l'andamento Quindi vediamo partita dopo partita Anche perché voglio vedere i gironi del Napoli Che non me ne ricordo C'è il Real Madrid e poi chi c'è? Ovviamente non vado a fare né pieni di crescita Né obiettivi né niente Perché questo video non è diciamo su una carriera con Napoli Ma è un video fatto solamente per vedere In quanto riuscire a Napoli a vincere Raggiungendo un 2 player ogni volta Magari poi dopo vado a invertire Zambolo Vodka Che c'è sempre il solito bug Allora il girone del Napoli Classifica vediamolo un po' Così capiremo quale sarà il nostro destino ogni volta Real Madrid Braga Union Berlin Allora il girone dovremmo passarlo Non dico sempre ma quasi Soprattutto quando andremo ad aggiungere poi altri top player Quindi ora raga vado fino a fine stagione E ci vediamo direttamente con i gironi Incrociamo le dita Prima giornata Questa volta ve la voglio far vedere tutta Partiamo con un 2-1 contro il Braga Bene E con Real Madrid 3-2 Vabbè ci può stare dai ci può stare È solo il primo tentativo Non ci spero neanche di vincere all'inizio Sapendo quanto ci ho messo con la Juve raga Mi sembra 12 o 13 tentativi Vediamo Però il Napoli parte da una base più forte secondo me E con un girone più facile soprattutto Intanto 1-1 con Union Berlin Ritorno con Union Berlin a casa 4-1 Bene abbiamo fatto 3-6 7 punti in 4 partite Dai Ancora una vittoria e dovremmo esserci Il problema è che Adesso c'è Real Madrid se non sbaglio Sì c'è Real Madrid Mamma mia Mamma mia Real Madrid a casa loro Al Bernabéu 3-3 8 punti Ci siamo tutto all'ultima Contro Il Braga In casa Dai Con 11 punti si passa Ecco Abbiamo perso col Braga Sta a vedere che siamo già usciti dalla Champions Farebbe molto ridere Vuol dire che dobbiamo aggiungere altri top player Vediamo un po' Champions League Oh siamo passati Con 8 punti siamo passati Va bene andiamo avanti allora Però abbiamo beccato il PSG Non un avversario facile sicuramente Eccolo qua il Paris Saint Germain Si parte in casa La cosa non mi piace per nulla Dobbiamo vincere Ok Abbiamo già perso in casa 3-1 Effetto Tornandez Che non è servito molto Ora o facciamo un'impresa epocale a ritorno O dobbiamo andare ad aggiungere un secondo top player Magari subito Mbappé Subito Holland Non sarebbe male Vediamo 3-2-1 A casa Napoli 5-3 Ci stanno anche per esonerare Nuovo giro Nuova corsa Gira la ruota Per la seconda volta Secondo giro di ruota Ho tolto Teo Vediamo chi esce Mbappé no Bellingham Cioè va bene lo stesso Però Mbappé era fondamentale Anche se avremmo dovuto togliere Rosyman Però mamma mia Vabbè andiamo ad aggiungere Bellingham Dai Bene Aggiunto Bellingham Ragazzi ho invertito anche Zambolo Botka Così non c'è il bug che sono fuori ruolo Ho tolto il buon Zinischi Che va solo 82 di overall Non sarà la volta buona Ma proviamoci Per ora è il record Ottavi di finale Con l'aggiunta solamente di Teo Hernandez Io ci credo Dai Ovviamente raga non vi faccio vedere ogni volta tutta la Champions Perché sennò questo video dura 4 ore Anche perché ho paura di sapere quanto ci metteremo Quindi questa volta ci vediamo direttamente alla fine dei gironi Fammi vedere per curiosità solo Cosa ci danno come obiettivo per quanto riguarda la Champions Raggiungi la finale Beh noi dobbiamo vincerla Ok Ok Bene gironi finiti raga Non so se siamo passati Lo scopro insieme a voi adesso In questo istante Secondo posto in campionato Che vabbè non è che ci interessa molto Siamo passati Ancora secondo posto Ancora 8 punti Mamma mia Mamma mia Come prima raga Andiamo avanti Crediamoci Poi alla fine voglio vedere quanto hanno giocato E quanti gol hanno fatto Teo e Bellingham Le nostre aggiunte Bayer Monaco Per battere il nostro record Attenzione In casa all'andata 3 a 2 Serve all'impresa Alla Bayer Arena Forse l'Allianz Arena Vabbè Mi so confuso Non lo so In ogni caso ce la faremo Ce la faremo grazie a Bellingham 3 2 1 No 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 Ancora Ancora E non posso neanche andare a fine stagione Se non mi esonerano Vediamo come stavano andando Va Bellingham e quell'altro Bellingham le ha giocate tutte 5 gol e 4 assist Un po' sotto media Per il Bellingham che conosciamo Però ci può stare Mentre Teo 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 Hernandez Non reperito Teo Hernandez E' sparito Teo raga E' sparito Teo Ma com'è possibile questa cosa E' letteralmente sparito Teo Ehm Errore Errore Vabbè Lo riaggiungo adesso E andiamo a girare nuovamente la ruota Ma E' un bug incredibile questo Ma com'è possibile L'avevo messo Ma non è neanche al Milan Ma dov'è Teo Ma è al Napoli No vabbè E' sparito nella carriera Vabbè Giriamo la ruota Ehm Vediamo se risuccede questo problema Tolto Bellingham Andiamo a fare il terzo giro Ti prego Ti prego Uno buono Uno buono Messi Messi al posto di Politano Vamo Allora mettiamo Messi Io voglio sperare che giochi raga Perché purtroppo Lui è segnato come AT o COC Qua è fuori ruolo Quindi potrebbe non giocare Ehm Vediamo se spostandolo un po' Mi fa mettere AT Ok Un modulo un po' strano Però almeno Messi gioca Almeno Messi gioca Poi se troviamo qualcun altro Ci inventiamo qualcos'altro Però per ora Messi titolare insieme a Ozyman Kvara Belling a Meteo Dai Dobbiamo almeno fare meglio degli ottavi Piano piano Scaliamo Scaliamo Siamo di nuovo dopo i gironi Vediamo com'è andata Campionato primo posto Già la cosa mi piace Champions League Ok siamo contro il Barcellona Siamo passati sempre al secondo posto Raga Secondo me piano piano riusciremo Ad arrivare al primo posto Ad avere un accoppiamento migliore Però 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 Vi devo dire Vi devo dire Il Barca secondo me si può battere Tra l'altro come nella realtà Napoli-Barcellona Agli ottavi Vediamo Attenzione subito Gli ottavi in casa 5-1 per il Barcellona Ma si vede che si è fatto 5 gol Messi Perché non vuole segnare al Barcellona Dai Follia Vabbè Ritorno Mi sa che Finirà ancora peggio A casa loro 8-3 in tutto Quindi a ritorno abbiamo perso 3-2 Hanno giocato Messi, Teo O Teo è di nuovo sparito Vediamo un po' Non lo so raga Allora Bellingham 11 gol Messi 8 gol Le ha giocate tutte Quindi abbiamo fatto bene a metterle in quel ruolo Teo le ha giocate Ok questa volta non è sparito 39 presenze Quindi hanno giocato praticamente tutte le partite Vabbè ne ha riposata giusto qualcosina Ma ci può stare Però Siamo bloccati agli ottavi Terzo tentativo 3 volte agli ottavi Serve un altro top player Per cercare almeno di soprare questa maledizione Andiamo Togliamo Messi raga Un difensore Dai Un difensore centrale 3-2-1 Neymar Mi spiace un po' togliere Kvara Però Neymar E Neymar raga Allora ragazzi ho visto che Kvara può giocare anche alla destra Come vedete qua sotto E quindi ho pensato di fare così Kvara a destra Neymar a sinistra E Messi trequartista Almeno Questo modulo ha un po' più di senso Perché prima era un po' squilibrato Secondo me così raga Gli ottavi si passano E poi chissà Si può sognare Vediamo Eccoci qua Col nostro Napoli Al quarto tentativo La squadra è già bella bella forte Ci è andata abbastanza bene Nella ruota E allora raga Questa volta Ve la voglio commentare tutta Andiamo Più che altro mi sta piacendo il fatto che usciamo sempre agli ottavi Nel senso potrebbe essere una cosa dove progrediamo piano piano Sarebbe fantastico Magari ottavi Poi quarti Poi semifinale Poi vinciamo Chi lo sa Con la Juve invece era tutto un po' strano Nel senso che se vi ricordate Abbiamo fatto al primo tentativo finale Poi semifinale Poi gironi Poi quarti Poi non passavamo mai il girone Vabbè dettagli Dai Concentriamoci sul Napoli C'è bisogno di arrivare al primo posto raga E con un attacco messi nei Marosi Mankvara Si può fare Contro il Braga Olè 3 a 2 Bene Contro il Real Madrid Cosa combiniamo? 4 a 2 per loro in casa Come fai a passare al primo posto se perdi con il Real in casa? Inizione col Berlino Non passiamo neanche il girone Non passiamo neanche il girone Non passiamo neanche il girone 2 a 2 al ritorno Abbiamo fatto 4 punti in 4 partite E ora dobbiamo andare a giocare al Bernabeu con il Real Napoli-Real Madrid Dal Bernabeu 1 a 0 Attenzione è tutto riaperto Vamo Dobbiamo vincere l'ultima Abbiamo 8 punti No 7 punti abbiamo Se vinciamo l'ultima andiamo a 10 8 punti ancora una volta Non so se basteranno Non so se basteranno Campionato quinto posto Male male Champions The League Siamo passati 8 punti ancora una volta Mamma mia In questo girone bastano 8 punti a quanto pare Andiamo fino alla fine Non so che abbiamo pescato Ecco abbiamo pescato il Feyenoord Attenzione 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 Ci è andato bene Forse per la prima volta passiamo agli ottavi Al quarto tentativo Dopo aver aggiunto Messi Bellingham Neymar Fammi vedere se hanno giocato tutti va Theo ha giocato Bellingham ha giocato Neymar ha giocato Non ha giocato Kvara Ah no Kvara Ha giocato più o meno Messi scusatemi 7 presenze in questo nuovo ruolo Ok questa formazione a farfalla Che abbiamo inventato Non funziona Giriamo la ruota E vediamo cosa inventarci Quinto tentativo Togliamo il buon Neymar Che non è stato molto d'aiuto Ancora una volta Usciamo agli ottavi Con questo giro Raga Arriviamo in semifinale Courtois Calma che il portiere Nelle simulazioni È molto molto importante La cosa è buona Anche perché togliamo Courtois Real Madrid Che ce l'abbiamo nel girone Quindi lasciamo potenzialmente Real Madrid Senza un portiere titolare Che poi è come sta succedendo In realtà Perché gioca Kipa Però 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 Vediamo Vediamo Questa è la formazione raga Adesso ho deciso Che andrò a togliere Tutte le riserve Di Kvara Di Messi Di Neymar E cose varie Per far giocare loro Per far giocare i nostri top player Quindi li tolgo direttamente dal Napoli Speriamo in bene Quinto tentativo Mai superati gli ottavi Questa volta ci vediamo direttamente Alla fine raga Magari porta fortuna Vediamo Ok raga So che vi ho detto Che ci vedevamo alla fine Ma siamo passati Per la prima volta Dopo gli ottavi Abbiamo battuto il Benfica E quindi merita Di essere vista Questa simulazione Dai 3 a 2 Col Benfica Ritorno dopo aver perso 1 a 0 l'andata Tra l'altro Quindi vuol dire Che abbiamo vinto 2 a 1 al ritorno Dai 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 No di più 3 a 1 al ritorno Mamma mia Manchester City E niente Ci fermiamo ai quarti 4 a 0 4 a 0 E al ritorno 6 a 1 in totale Però siamo andati Un po' più avanti raga Sempre ottavi Adesso quarti Se non mi sbaglio Fatemi controllare Champions League Quarti di finale Calma Piano 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 Ce la facciamo raga Piano piano Ce la facciamo Spero Vediamo se avendo tolto Gli altri giocatori dalla rosa Stanno giocando di più Quelli che abbiamo aggiunto In teoria si Neymar 47 Bellingham 47 Kvara 47 Teo 42 Messi 11 Io vorrei capire Chi gioca al posto di Messi Che d'altro ha preso Meno 5 Vabbè Comunque Neymar 25 gol Bellingham 21 Ci posso stare Curtua le giocate tutte Sì 45 ne ha giocate Curtua E quello che ne ha giocate di più Dopo questi qua che ne ha giocate 47 Andiamo a girare nuovamente la ruota Un difensore Un difensore Uno Van Dijk Rubendias Dai Andiamo Ti prego Ti prego Dammi un difensore Dammi un difensore Va bene De Bruyne Perfetto Ci serve in mezzo al campo Al posto di Robotka Vamo Vamo Allora mi sono appena accorto Che Robotka non c'è già più E quindi mi sa che dobbiamo Togliare Messi Tanto non sta mai giocando Messi raga Quindi mettiamo De Bruyne Al posto di Messi Tanto subentrerà ogni tanto E per il resto Lasciamo loro A meno che Possiamo provare un Messi punta Dai Questa simulazione Proviamola così Con Messi punta Dai Simulazione numero Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sì Simulazione numero sei Dai Pensavo peggio Crediamoci Questa volta raga Ci vediamo direttamente Ancora una volta Alla fine dei gironi Comunque cosa positiva Rispetto a quello che abbiamo visto Con la Juve I gironi li abbiamo sempre Sempre passati Per ora Tutte le volte agli ottavi Tranne l'ultima volta ai quarti Quindi bisogna uscire Almeno ai quarti Almeno ai quarti Bene Gironi finiti Vediamo come stanno andando E sono curioso di vedere Se sta giocando Messi Fasa gironi Primo posto Calma Ottavi Ma come contro il City Ma se arrivavamo secondi Chi beccavamo? L'Inter No l'Inter non potevamo beccarlo Perché l'Inter è italiana Sarà dura Mi sta gusciando di nuovo agli ottavi Raga Mi sta gusciando di nuovo agli ottavi Con quest'ultima giunta Dai De Bruyne Contro il tuo City Dimostra che sei andato Nella squadra giusta 2-1 a casa loro Potremmo anche ribaltarla Ci siamo Ritorno Prima la Juve Che non ci interessa No 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 Fammi vedere chi avremmo beccato ai quarti Accidenti Inizia a diventare impossibile Mi sto pentendo di aver fatto questo video I quarti non ci sono ancora Fatemi vedere Solo se ha giocato Messi Che devo capire se lasciarlo lì O se inventarmi qualcos'altro Messi 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 No Ha giocato Zimen 39 presenze Messi ha fatto 7 partite Mi sa che Messi Presto presto verrà scavallato Da qualcun altro che mettiamo Raga Ve lo dico Perché non va bene così Nuovo giro Dopo De Bruyne Il settimo giocatore aggiunto E Karim Benzema Ma sai che è mezzo mezzo Benzema Mezzo mezzo Bene direi che in questa squadra Non c'è più spazio Per il buon Leo Messi Karim Benzema Però facciamo anche una bella cosa Premiamo qua e facciamo AT E De Bruyne facciamo Che lo riabbassiamo E mettiamo CC Secondo me raga Con queste aggiunte Si può fare Almeno Riarrivare ai quarti Abbiamo aggiunto De Bruyne Bellingham Benzema Neymar Teo Hernandez Courtois E in panchina c'è pure Messi Dai 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 Mancano i difensori E un Mediano Magari un Casemiro Un Rodri Vabbè Che poi ogni volta che ne aggiungiamo uno È buono perché lo togliamo A una top potenzialmente Quindi alla lunga dovremmo farcela Speriamo Il metodo supremo raga È commentarvele tutte Quindi come abbiamo fatto prima Ve le commento tutte Voglio di nuovo i quarti Di finale con questa squadra Dai Ma io vi dico che se non arriviamo ai quarti Le prossime due Ve le simulo tutte quante Senza commentarvi niente E ci vediamo direttamente alla fine Così Per protesta Sono andato a verificare Comunque con la Juve ci abbiamo messo 13 top player Abbiamo dovuto aggiungere 13 top player per farcela E il top player decisivo è stato Ruben Dias Un difensore appunto Contro il Braga Partiamo così 3 a 1 Bene Pulito Proseguiamo contro il Real Madrid Con una vittoria magari Niente È maledetta La partita a Napoli con il Real Madrid È maledetta Poi però vinciamo quella dopo con l'Union Berlino Quindi 6 punti su 3 partite Abbiamo perso quella più forte Ci può stare Al ritorno con l'Union 2 a 1 Siamo praticamente già passati 9 punti E in questo giro di solito ne bastano 8 Abbiamo ancora però due partite Per venderci il primo posto Oh È più facile vincere al Bernabeu Che in casa Sarà che lo sta rifacendo il Bernabeu Non lo so raga Tra l'altro ieri dovrebbero aver fatto l'inaugurazione Intanto vinciamo anche l'ultima 15 punti E primo posto nel girone Assicurato Vamo dai Questa è la volta buona che la vinciamo raga Fidatevi Me lo sento Me lo sento proprio nel cuore Battiamo in finale Il Milan Ottavi di finale Fatemi fare un pronostico Dico Borussia Dortmund E agli ottavi Becchiamo Oh ancora meglio Il Lenz Perfetto Perfetto Dai Ottavi praticamente passati con sta squadra 2 a 1 ok E al ritorno Un 3 a 0 pulito Pulito proprio 3 a 2 Totale Va bene Per la seconda volta Il Napoli arriva ai quarti Speriamo accoppiamento facile Borussia questa volta Non so perché ce l'ho col Borussia raga Ma me la sento così Bayer Era meglio il Borussia Era meglio il Borussia Usciamo di nuovo ai quarti 3 a 1 all'andata Calma Calma 6 a 4 Il totale Siamo in semifinale Per la prima volta Vamo 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 Contro l'Inter No Aiuto 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 1 a 0 all'andata Calma 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 2 a 0 Siamo in finale di Champions Per la prima volta Attenzione Questo video potrebbe finire Molto a breve Contro chi siamo in finale di Champions Milan Barcellona Quel Barcellona Che ci ha umiliato Calma Calma Andiamo a vincerla Andiamo ad alzarla al cielo Messi Alzala al cielo Contro il tuo Barcellona E allora ci siamo Questa è la nostra squadra Una squadra senza alcun senso 3 2 1 No 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 Rafinha Pai Drevandowski De Bruyne E Kvara Shkelia Siamo arrivati a un passo Dal vincere questa challenge E invece no Ottavo giro di ruota Togliamo Benzema E giriamo la ruota 3 2 1 Dammi un difensore Vabbè Abbiamo preso il miglior attaccante del mondo Al posto di Benzema Va benissimo Però voglio i difensori Voglio qualcuno Un mediano Dai Tra l'altro Benzema Ragazzi ha giocato 50 Cioè incredibile Messi ormai 19 Mettendoli un panchino ha giocato di più Però adesso arriva Holland Tranquilli ci pensa lui Inserito Holland nella squadra Che prende il posto di Karim Benzema Questa è la formazione Regà Mancano da sostituire Rachman Nathan Zambo E Di Lorenzo Di Lorenzo va anche bene Però un Arnold Non lo disdegno Vediamo dai Magari questo è il tentativo buono Andiamo Numero 8 Bene Terminata la fase a Gironi Holland è fuori ruolo È vero È vero Spero che stia giocando Perché avevo messo Attili Però in teoria dovrebbe giocare Vabbè al massimo c'è Benzema Spero di aver passato i Gironi Sì Siamo contro Siviglia Siamo passati al primo posto Con tutte vinte Lascialo lì Holland Lascialo lì Holland Andiamo fino alla fine Calma 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 Back to back finale Magari vincendo questa volta Andata 2 a 1 Sì 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 che ci siamo Ormai non mi accontento di nulla Che non sia almeno Una semifinale Abbiamo una squadra troppo forte Ritorno Ok 4 a 3 Al pelo ma passiamo Non era un avversario facile Siviglia Tanto arriva una mail da Holland Mi sa che non è molto contento eh Mi sa che non sta giocando Holland Uh no Di nuovo il Barcellona Di nuovo il Barcellona che ci ha battuto Ai 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 3 a 1 all'andata No 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 5 a 2 5 a 2 Ma perché Forse non ha giocato Holland Eh mi sa che avevo fatto L'errore incredibile Non ha giocato Holland Perché lì ho messo a T Infatti ha giocato Benzema 41 partite E Holland Ne ha giocate 12 Errore mio raga Eh un tentativo bruciato così Giriamo di nuovamente la ruota Giriamo di nuovamente Cosa ho detto Vabbè Tolto Holland alla ruota Che è stato un po' sprecato Dammi un difensore Valverde Ti dirò Togliamo il mediano Alziamo un po' il centrocampista Via Zambo dentro Valverde Meglio un difensore Ma ci può stare Allora Valverde messo Alziamo un po' No non si può fare Vabbè cambiamo modulo Mettiamo il 4-3-3 in linea Perfetto Holland attaccante Qua mettiamo ATT Ok abbiamo giustato un po' le cose Questa è la formazione Regà C'è Una formazione del genere Deve vincere la Champions C'è solo questo problema qua dietro Dovrebbe darci Van Dijk E Ruben Dias E poi sarebbe una squadra perfetta Vediamo dai Vediamo Fino alla fine dei gironi Ci siamo Gironi finiti E qua ci siamo già spoilerati Contro chi siamo agli ottavi Io spero che abbiamo passato il giro al secondo posto Perché se l'abbiamo passato al primo E abbiamo beccato il PSG rosico Ok Mamma mia 8 punti Ma cosa non sta girando in questa squadra Perfetta Spiegatemi cosa non sta girando Eh Niente Sta girando Vediamo un po' Dai Il miracolo Si può scrivere 2 a 0 Vamo Nel calcio può succedere di tutto Ricordatelo E allora andiamo a prenderci questi quarti di finale Dai Ora però a casa loro Al parco di Prisci Tu puoi aver perso 4 a 0 con la Juve Non 4 a 0 col PSG Vamo Perdiamo solo 3 a 2 E allora vuol dire quarti di finale Contro un'italiana Oh no Oh no Però gli abbia rubato De Bruyne e Holland Dai 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 2 a 0 Niente Oh anche senza il Bruyne e Holland Ci disintegrano sempre A casa loro No 3 a 1 Non ne posso più Non ne posso più Non ne posso più E' peggio della sfida con la Juve questa Ma perché Han giocato tutti Kvara, Holland, De Bruyne, Teo Han giocato tutti Bellingham, Ozyman No vabbè Ozyman non deve giocare Infatti mi sa che è meglio che lo togliamo Valverde Han giocato tutti raga Tranne Messi che vabbè ci può stare Oh Gira la ruota Dammi un difensore Dammi un difensore Tolto il buon Valverde Van Dijk Van Dijk Van Dijk Si Oh finalmente Van Dijk Messo al posto di Nathan Regà Manca solo Rachmani da sostituire Vabbè Di Lorenzo è buono Non lo possiamo lasciare La vinciamo Dai la vinciamo Non si può non vincere Cioè Questa squadra qua non può non vincere la Champions Dai Andiamo Crediamoci Tentativo numero 11 Me lo sento buono E quindi ve lo commento tutto quanto Perché sarà quello della vittoria Vamo Passare i gironi con tutte vittorie Anzi Facciamola così Voglio passare i gironi al secondo posto Perché secondo me Porta più fortuna L'Inter nel 2010 ha vinto la Champions Passando al secondo posto Quindi crediamoci Bene Perdiamo la prima contro il Blaga 2 a 1 Ok Seconda partita contro il Real Madrid 2 a 2 1 punto in 2 partite Così mi piace la squadra Così mi piace la squadra Union Berlino Vabbè Adesso è ora di iniziare a vincere però Oh Va bene Dai Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Dai Dai Ancora contro l'Union Berlino Questa la vinciamo Per forza 3 a 1 Bene Abbiamo 7 punti Ok Ancora una vittoria Non 2 Che poi arriviamo al primo posto E non mi piace Magari con Real Madrid Perdiamo Dai Perdiamo con Real Madrid Eh no Abbiamo vinto 5 a 2 Ma come Eh devo ti fare al contrario raga L'ultima dobbiamo perderla per forza Se no passiamo al primo posto Perdiamola Ti prego Abbiamo vinto Primo posto Fantastico Bene Non guardiamo il girone raga Andiamo dritti così Tirati Perché è la volta buona questa Sarò con te E tu non devi mollare Abbiamo un sogno nel cuore Napoli diventa campione Oh 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 Con tutti questi top player Dopo 11 tentativi Oh 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 Napoli diventa campione Bene Scopriamo il nostro avversario Degli ottavi di finale Siamo passati al primo posto Becchiamo il Lens ancora una volta Bene 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 Intanto Crunici è andato al Fulham Vabbè 3 a 1 Vamo 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 Nel gioco ovviamente Crunici è andato al Fulham Ho visto qua dietro Seconda partita Contro il Lens Facile Facile Pulito 5 a 1 Vamo Contro chi siamo adesso Dimmelo 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 Dammelo una facile Dammelo una facile Non un'italiana possibilmente Dammi tipo il Feyenoord Nooo L'incubo L'incubo La nostra Nemesi La nostra Nemesi 2 a 1 all'andata però Calma Calma dai 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 Sì 4 a 3 4 a 3 ancora semifinale Contro l'Arsenal Ah Potrebbe andarci peggio Però non gli abbia rubato nessun giocatore All'Arsenal Infatti 2 a 2 all'andata No 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 Semifinale No No Ci ho creduto Ci ho creduto Ma com'è possibile questa cosa Ma perché Perché Neymar ha fatto più gol di Holland Ma cosa vuol dire Hanno giocato tutti raga Tutti hanno giocato Vediamo in difesa Chi ha giocato 34 Van Dijk 15 Juan Jesus 15 Ostegar e 40 Rachmani Vado a togliere magari qualche difensore Va Giriamo la ruota Dodicesimo giro di ruota 3 2 1 Ti prego fermati Va bene lo stesso Vinicius però era meglio Rodri Rodri era perfetto Toglieva un po' un giocatore al City Vabbè Rodri dai Ah no che Rodri Che dico Vinicius Va bene Approfitto raga per togliere i giocatori al Napoli Va almeno non subentrano al posto dei nostri top player Allora Vinicius inserito raga Lo mettiamo al posto di Kvara Che vi devo dire Spero giochi Non lo so se giocherà E potrei anche fare un cambio modulo I loro due possono fare tutti e due gli ATT Nei mari il C-O-C Aspettate facciamo una cosa pazza Questa cosa mi piace Raga Vinicius può fare l'attaccante 4-3-1-2 Però aspettate Perché dobbiamo fare così Qua dobbiamo fare Più avanti Si può C-C Perfetto E lui dobbiamo farli fare C-O-C Boh È una roba un po' strana ma Potrebbe funzionare Potrebbe potrebbe funzionare Vamo Tentativo numero 12 Il prossimo sarebbe il 13 E sarebbe quello dove la Juve ce l'ha fatta Vediamo Ce la faremo prima della Juve noi Questo sarà il tentativo buono Ci vediamo ai gironi Eccoci qua Indovinate un po' Siamo contro il Manchester City Che però fa un po' meno paura Perché non ha più De Bruyne Non ha più Holland Siamo al primo posto in campionato Vorrei anche vedere Cioè dovremmo averle vinte tutte Con questa squadra Champions League Siamo passati al primo posto Con tutte vinte Calma Calma che se le vinciamo tutte Abbiamo vinto Ma perché mi dà Vinicius fuori ruolo Vabbè no Giustamente fuori ruolo Però lui in teoria può fare l'attaccante Quindi in teoria Dovrebbe star giocando Si dice dovrebbe star giocando Dovrebbe star giocando Vabbè non lo so So solo che adesso dobbiamo battere il City Perché voglio far meglio Di quanto ho fatto con la Juve Questo è il dodicesimo tentativo Vediamo 1-0 All'Etihad Ok Va bene E ora ritorno Al Diego Armando Maradona Al San Paolo 2-1 Ok 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 Dammi l'Inter ai quarti di finale Così a caso Li abbiamo appena battuti il campionato Li battiamo pure in Champions Porto Ancora meglio dell'Inter Non si può uscire col porto Chiudo il video se usciamo col porto 3-1 all'andata Vamo 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 A un passo dalla storia Oland Ok Mi sa che sta andando bene 5-3 Attenzione Semifinale col Manchester United Ci è andata bene Ci è andata bene Non possiamo uscire col Manchester No vabbè Abbiamo perso 2-1 all'andata Basta Basta Ma che vuol dire Ribaltiamola Ma no Ma no No Non si può uscire col Manchester United Draga Dai Ma non si può Ma Ma dai Abbiamo vinto tutto Champions League Chi c'era in finale Il Borussia Ma come abbiamo fatto uscire col Manchester Ok che non gli abbia rubato nessun giocatore Però Vediamo solo se sta giocando Vinicius Per capire Se cambia il modulo Nella prossima Oland 36 gol Vinicius Ok Non è stata una buona idea Però c'è scritto che può fare anche la TT Niente Tredicesimo tentativo Possiamo Eguagliare la Juve Tolto Vinicius Dai 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 Mbappé Va bene Va bene Non serve a niente Ma va bene Beh a sto punto Via Vinicius Dentro a Mbappé Mi piace come piano Sì Tra l'altro mi sa che ho fatto male i calcoli Aspettate un attimo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Questo è il dodicesimo tentativo Ok Allora possiamo ancora battere la Juve Dai 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 Mbappé Oland davanti con Neymar dietro De Bruyne-Bellingham Valverde Cioè dai Preso il Napoli Ci vediamo alla fine dei gironi Tanto ormai i gironi li passiamo Easy Li abbiamo sempre passati eh Assurdo Eccoci qua Ovviamente abbiamo passato il girone Ma Vabbè Ci manca L'abbiamo passato sempre Poi ci manca che non lo passavamo con questa squadra Come l'abbiamo passato Primo posto Secondo posto Con dieci punti Sta a vedere che è la volta buona Sta a vedere che avendo passato il secondo posto È la volta buona con questa squadra Con Bappé Oland Vinicius Tutti insieme Neymar No Vinicius non c'è più Neymar Valverde Bellingham Teo Andata 1-1 Inizio a pensare di non farcela con il Napoli Ve lo giuro Però abbiamo ancora il ritorno All'Ethiad Facile 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 Sì Tra due Quarti di finale Dai Un inglese Illipsia Ci va sempre bene ai quarti quando arriviamo a secondi Questa cosa è molto positiva 2-1 Bene Ora in casa 4-0 5-2 Ci ho preso No 3-0 3-1 Vabbè uguale Borussia Che prima avremmo potuto beccare in finale 1-1 No 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 La maledizione della semifinale No No Sì Finale Vabbè 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 Contro chi? Contro un'italiana parebbe molto ridere Contro la Juve Ah no la Juve non si può Non c'è in Champions Scusate Il Barcellona La nostra Nemesi La squadra che prima Ci ha Eliminato in finale L'unica volta che ci siamo arrivati oltre a questa Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Finale Di Champions League Al tentativo numero 12 Tutti freschi Tutti verdi Valdai che pronto Sììììì Ha segnato Teo Il primo giocatore che avevamo aggiunto Il primo top player E destino E destino Contro il Barcellona Che ci aveva battuto Vabbò Vabbò Grazie Grazie E ora voglio il carro in mezzo alla città Dimmi che appare Appari carro Eccolo 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 Let's go Let's go Let's go E quindi Con il Pum che passa in mezzo a tutta Napoli Con la Champions League vinta dopo 12 tentativi Io vi ringrazio per aver visto questo video Se ancora l'avete fatto mi piace la descrizione è qua sotto E noi ci vediamo domani con un prossimo video E se ti è piaciuto questo video Guarda questo qua Sono sicuro che ti piacerà